Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 1 settembre 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Umore alle stelle, in barba al lavoro. L'dquo partire è un po' morire, dice il proverbio, vero, per qualcuno non solo tornare, ma anche andare in vacanza, lasciando le abitudini e i ritmi della quotidianità, è un piccolo stress, si cura subito, ma al momento provoca ansia e malinconia. Per voi, però, gasati da un viaggio ed esaltati da un nuovo amore, è una giornata rosa, come tutte le altre di questo periodo. Dalla vostra parte solo astri favolosi, il doppio sestile della fortuna, giocato tra il sole e venere da un lato e la luna in gemelli con giove dall'altro, il massimo per voi. Un filo di incertezza riguardo a una relazione, in bilico tra amicizia e amore, due sentimenti pronti a diventare uno solo, potrebbe essere la storia del secolo, ma se si guasta perdete tutto. Carpe diem, diceva Orazio, il viaggio, senza orari o ansie per il lavoro, è il contesto ideale per mordere la mela. Se invece al lavoro ci siete ancora, Saturno e Nettuno in sesta casa ve lo rendono particolarmente pesante, in questo caso altro che mela, tutt'al più morderete un fico d'India. La coppia è attraversata da dubbi e incertezze sul futuro, motivate soprattutto dalla perenne indecisione dei partner. Solo i partner più ostinati e costanti riusciranno a districarsi dalle maglie dell'indecisione e portare a termine i progetti di coppia. Momento di estrema confusione per i single che resteranno scoraggiati e avviliti. Arriva il sole nelle vostre giornate, le cose inizieranno a girare per il verso giusto e troverete dei validi alleati in tutto. Giove in ombra potrebbe darvi qualche occasione da cogliere a volo, ma dovrete far presto e subito poiché i vantaggi potrebbero sfumare se non decidete subito. Farete i conti con il vostro bilancio e vi accorgerete che alcune spese potevate evitarle e oggi vi sarebbe tornato utile quel denaro. Ma non disperate, recupererete presto. Lotterai però contro i tuoi amici. Una piccola delusione nel lavoro. Molti attendono da voi atti di coraggio e decisioni importanti, non deludete nessuno mostrandovi ancora legati al passato e a pregiudizi che non hanno più ragione di esistere. Non date motivo agli altri di criticarvi o di fare pettegolezzi sul vostro conto, in particolare se vivete un amore clandestino fate in modo che questo resti ben nascosto. Fate sempre di tutte le erbe un unio o fascio, oggi è necessario fare una certa pulizia tra i dubbi che vi attanagliano, particolarmente tra quelli sul conto della persona che avete nel cuore. Vivendo un amore segreto abbiate cura di mantenere un corretto atteggiamento, saggio soprattutto, in modo che non trapeli nulla nel vostro ambiente. I pettegolezzi sono in agguato e potrebbero feririvi oltremodo. Necessità personale o familiare intaccheranno il vostro bilancio e vi consiglieranno spese oculate. Mettete, se possibile, qualcosa da parte per le necessità improvvise future. Sfrondate l'inutile e eliminate saggiamente il superfluo andando all'osso delle alleanze e dei rapporti. Dalla vostra avrete pianeti del calibro di Venere, del Sole, di Giove, di Marte e della Luna. Sarà il cielo propizio a farvi ragionare, svelandovi poi le relazioni autentiche, quelle che valgono veramente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 14 ottobre. Potrete poi mettere in luce la simpatia e l'altruismo, di cui sempre fate sfoggio nelle vostre amicizie, i pianeti amici esalteranno le vostre qualità migliori se siete nati in tutto il mese di ottobre, quelle per cui è impossibile non ricordarsi di voi. In vacanza vi sentite contentissimi, avete fatto la scelta giusta, località, compagnia, periodo, tutto azzeccatissimo, parola della Luna in gemelli, segno d'aria intrigono al vostro. Se oggi qualche piccola grana si presenta, magari un'emergenza di lavoro da tamponare da remoto, non sarà il caso di farne un dramma, un paio d'ore e risolverete tutto, mettendo a tacere le ansie del vostro capo e lo smarrimento del collega che vi si trova coinvolto senza capirci un H. Amore ed Eros L'amore non è razionale, ma vi prende radicalmente, perciò concordate col filosofo Pascal che sentenzia al cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Equilibristi tra amicizia e amore, lasciate che sia il caso a decidere per voi. Il viaggio è il contesto giusto per andarsi andare e gustare una coloratissima macedonia di emozioni. Dell'amore, voi bilance, non potete fare a meno. Balza al primo posto, lo fate scorrere, oggi se potete, quasi come in un sogno. Sia che siate in coppie stabili e di lunga durata, oppure in legami occasionali e di recente fioritura, avrete un giorno in cui potrete assaporare emozioni forti. Lavoro e denaro In vacanza flerte e divertimento sono di prammatica, non avete altri pensieri che lo sport, legite il meteo del giorno. Telefonate da amici lontani che vi sollecitano una visita o si propongono di venire a trovarvi, in entrambi i casi la proposta è allettante, non resta che definire i dettagli. Un orizzonte estremamente produttivo vi si apre davanti. È vero che oggi un gruppetto di amici potrebbe sfidarvi professionalmente, ma voi venderete cara la pelle. Un ottimo mercurio dal segno buon vicino della Vergine, vi fa rispettare, specie se siete nati in settembre. Benessere Se fisicamente non vi sentivate al top, questa vacanza si rivela una vera boccata d'ossigeno, lo stacco del quale avevate disperatamente bisogno, esperienza da ripetere al più presto. Denaro Intuite che un affare sventolatovi in modo plateale è un bluff e vi piace scherzare e sorriderci su. Non vi farete prendere dalla chimera di facili guadagni che vi verranno prospettati in questa giornata da alcuni vostri amici. Per lei, vacanza deliziosa, con tanti amici che ve ne fanno conoscere altri, partite in tre, tornate in cinquanta, agosto si preannuncia coloratissimo. Per lui, vi basta mettere piede in azienda per ritrovarvi alle prese con una montagna di grane, di cui nessuno vi ha mai fatto parola, proprio oggi, che avete un filo di mal di testa e la mente non va a mille come al solito. Rilassatevi, provvederete domani. Colore delle emozioni, albicocca. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, Attività, 7, Finanze, 6, Beneessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.